Ciao Massimiliano, benvenuto su Spettacolo News, ci puoi raccontare qualcosa del tuo personaggio e cosa ti è trasmesso a interpretarlo in questi anni? Io mi ricordo sempre questa frase che mi diceva Biagio Manna verso agosto, quindi eravamo al terzo mese di riprese, che mi diceva Massimiliano io non ti vedo da un mese, sei diventato uomo. Ora io non so lui cosa intendesse, né forse mi interessa sapere cosa vuol dire diventare uomo, adulto, però sicuramente sono cresciuto, mi ha permesso di perdonarmi alcune cose, perché Carmine quest'anno intraprende un percorso che lo porterà a perdonarsi e accettare di essere in grado di amare.